Bella ragazzi qui Dido e oggi faccio questo gameplay su un gioco random che sto giocando in questi giorni per conto mio senza fare i video sul canale Per testare il nuovo microfono ragazzi infatti ho comprato un nuovo microfono eccolo qua non so se lo riuscite a vedere E' un Blue Snowball costa sui 60€ su Amazon quindi se siete interessati a comprarlo anche voi appunto si chiama Blue Snowball E' davvero di ottima qualità è davvero fantastico e ora volevo provare a fare un gameplay così di 10-8 minuti da mettere poi sul canale Per almeno festeggiare insieme a voi il nuovo microfono finalmente e la gioia che avrete nel non sentirmi più con la voce gracchiante Allora ragazzi questo va bene niente è un gioco random che sto giocando in questi giorni davvero molto molto figo Ve lo faccio un attimo vedere giusto così per giocare intanto che parlo ma avrei potuto anche fare un vlog E basta ho detto perché non facciamo un vero e proprio gioco quindi ragazzi è un gioco è un fps davvero figo 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 Ha una grafica assurda fra l'altro ha una grafica davvero assurda ed è veramente divertentissimo Comunque la cosa importante di oggi è il microfono ragazzi quindi non sto a parlare qua del gioco ma voi fate caso al microfono e basta Comunque il volume del gioco è davvero altissimo sono già morto ragazzi è uno E' uno dei giochi più difficili che io abbia mai visto comunque spero che il microfono si stia sentendo bene Poi ovviamente farò un controllo anch'io prima di caricare il video perché se si sente di merda vuol dire che devo cambiare impostazioni o quant'altro Comunque appunto si chiama Blue Snowball credo che sia della stessa famiglia del Blue Yeti e di quell'altro microfono che va molto molto di moda Io ho fatto appunto ricerche e quant'altro e mi pare che questo Blue Snowball anche se costa la metà abbia le qualità più o meno uguali Quindi sono contento di questo acquisto Ragazzi questo invece è un gioco che si chiama Alien Rage Lo sto giocando appunto in questi giorni per conto mio senza farci video Ed è uno dei giochi più difficili che io abbia mai visto ragazzi Apriamoci un varco E' davvero un gioco difficilissimo Se vedete sto giocando con la difficoltà più bassa E' già un bordello ragazzi E' già un bordello Però mi ricorda anche molto Killzone Non so perchè però è davvero figo Devo ammettere che è davvero davvero figo Infatti è raro che io mi trovo a giocare a un gioco senza farci video Perchè di solito non ho tempo Ma per questo sto trovando il tempo perchè è davvero figo Se vi state chiedendo perchè Intanto sto parlando tanto per fare se sentire il microfono Se vi state chiedendo Ehm Aia Perchè Basta Perchè Ehm Ehm Non lo sto portando sul canale Potete vedere perchè è Quasi tutto Un FPS E la trama non è che sia Chissà che Ed incredibile Perciò Ho detto me lo gioco per conto mio Perchè so già che poi sul canale Non sarebbe molto Apprezzato Sti bastardi con lanciarazzi Sono assurdi Basta Guarda Basta Sono coriacei Eh Qua Cioè Ragazzi E' la difficoltà minima Minima Non so se mi spiego COD e gli altri sparatutto della nuova Diciamo moderni ci hanno abituato a degli standard bassissimi di difficoltà e quant'altro Abbiamo anche uno shotgun come potete vedere che non uso quasi mai perchè di solito Gli alieni sono abbastanza lontani rispetto a noi Dove dov'è dov'è e poi hanno una mira incredibile Guarda e Come faceva a colpirmi Cioè vedete Hanno una mira che ha degli Cioè dell'imbarazzante per quanto è Assoluta Io prendo lo shotgun e voglio Shotgunare qualcuno Tipo Tipo te Sti cazzi ragazzi Cioè sono appena arrivato lì Ma hanno già ucciso Guarda Ma guarda Eh questi qua hanno Sono dei Sono dei kamikaze del cazzo Super veloci Che vengono lì e vi bloccano Tipo vi fanno questo attacco che vi blocca per qualche secondo Basta però Quanti siete Guarda quanti Guarda quanti C'è una bomba da far esplodere no Crepa Ragazzi cioè E' difficilissimo Però è davvero bello Io non capisco anche perchè Il gioco sia così sconosciuto Perché cavolo E' fatto bene E' molto difficile Però è un gioco fatto bene comunque Sti cazzi che Che shotgun Fortissimo Bam Ancora vivo Ancora vivo No ok Dov'è Dov'è la gente Cazzo cazzo no Questi qua c'hanno il lancia granate Cazzo no Muori no Ricarica veloce No Ce l'ho fatta di culo ragazzi Questa è andata di culo Questa volta mi è andata di culo Comunque ho scelto un livello a caso Perché quello in cui sono arrivato Mi sono bloccato Perché c'è un boss Che per me è troppo difficile Sono bloccato da giorni lì Era dai tempi della play 2 Che non rimanevo bloccato in un boss Per giorni Cazzo no Oh ragazzi E' fortissimo questo shotgun Se non fosse per sto bastardo Che mi spara le granate In faccia Ok Vedete anche che è molto Basta Vedete anche che è molto frenetico Molto molto È molto figo ragazzi Davvero E solo che è davvero sconosciuto Questo gioco Io non so come mai Ma è davvero sconosciutissimo Vabbè comunque Poco 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 ci importa questo Almeno vi ho fatto conoscere Anche un nuovo Un nuovo gioco Comunque Dov'è Oh 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 Che è E dai E dai Quanti sono ogni volta Smettila te Smettila Di essere così Feroce Cosa fa quello lì Rialzati Guardalo 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 Che bastardo Vieni qua Vieni qua Guarda questo bastardo Con lancia granate Che è pure invisibile E pure invisibile C'è lancia granate Cioè sono Over power Sono Alieni Over power Mi spiegate come posso Sconfiggere Ecco fanculo Di qua Non posso passare Ah di qua Cioè mi spiegate come posso Sconfiggere uno Che è invisibile Cioè lancia granate Cioè assurdo Soprattutto quando Ve li spammano in milioni Guardate che fratto Le ambientazioni Sono fighissime Il gioco è anche abbastanza Leggero Molto fluido Se vedete ora Non so se si vede Sto giocando in Full HD Con i dettagli al massimo E comunque Eretto dal mio Dal mio pc Che vabbè Il mio pc Comunque è abbastanza buono Però vabbè Un gioco in full HD Con le cose al massimo In genere è pesante Invece qua È abbastanza buono È abbastanza leggero È fluido E non Non ha Non ha fatica Troppo il pc Ci fosse un fucile Da cecchino Ah questa qua È la invece L'altro fucile Da pompa Che è quello loro Quello tipo Alieno Guardalo Bam Bam È forte anche Sto qua Però Oh mio dio No eh Oh mio dio Preso Preso Ok Ce l'ho fatta Di culo ma ce l'ho fatta Dov'è Dov'è che si va Uh Fermi lì tutti Ti ho visto E smettila E smettila Ok siamo a bordo Schiaccia il pad Schiaccia il pad Ok ragazzi Credo che Questo gameplay Possa anche Possa anche finire qui Come avete capito Non è un let's play Né niente È solo una prova Del microfono Lasciate quindi Un bel mi piace Un commento Per questo microfono Perché finalmente Sarete felici Che non c'è più Quello di prima Di vedete fan Sulla fanpage Scrivete tutti Un bel ragazzo Ciao